Primo impasto, 500 grammi di farina Manitoba, 2 uova, un pizzico di sale, 50 di zucchero, 200 di latte e lasciare 12 ore. Secondo impasto, aggiungere 200 di burro, 200 di zucchero, altre 3 uova e altre 500 di farina Manitoba, 500 l'abbiamo messo nel primo, 15 grammi di lievito rimasto, aggiungere 300 grammi di cioccolato fondente a pezzetti, fare delle palline 30-40 grammi. Poi sbattere un uomo con 50 grammi di zucchero e spennellare bene bene le palline. Poi aggiungere con dei semi di papadero a metà e metà, mettete semi di sesamo e li mettete a levare in forno a 25 gradi per almeno 2 ore. Ok? Cuocere in forno 200-220 gradi dipende il forno che avete ventilato. E questo è il risultato dopo queste lavorazioni con molta soddisfazione. Ciao, alla prossima!